Tremori, voci dal castello, è il primo podcast nato durante il Festival Castel dei Mondi. È podcast dedicato a Castel del Monte, alle paure e al filosofo Michele Palumbo. A idearlo è il collettivo CioMafè. Marilena Pastore. La paura ti salva sempre, ma per una volta bisogna non aver paura. Quasi 3.000 ascolti dal giorno del lancio, al vertice poi da qualche settimana delle top di Spotify. E Tremori, voci dal castello, il podcast sulle paure, come raccontano i giovani del collettivo CioMafè, del giornalista Luigi Lupo, Maria Chiara Pomarico, Vincenzo Simeone e Sara Suriano, che lo hanno ideato. Tremori vuole essere un'esplorazione multimediale, una ricerca interiore, un racconto dantesco sulle paure dell'essere umano. Prodotto dal Festival Internazionale Castel dei Mondi, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia e Comune di Andria. Con una dedica speciale a Michele Palumbo, docente, filosofo e giornalista, che al castello era particolarmente legato. Abbiamo pensato un modo alternativo per raccontare quello che stava succedendo all'interno del macro tema di quest'anno, che era No Fear, Senza Paura. E da lì è nato il racconto attraverso le nostre paure. Abbiamo fatto questa esplorazione tra il dantesco e l'onirico, insieme all'attrice Agata Paradiso, che presta la voce al podcast. E attraversando le varie stanze incontra sia alcuni degli attori e dei registi che hanno partecipato al Castel dei Mondi di quest'anno, sia alcuni personaggi che in realtà le indicheranno la strada per superare la propria paura. Il mondo migliore che oggi si può scegliere per fare questo tipo di racconto è appunto la voce, come diceva Maria Chiara. Perché? Perché nel momento in cui l'immagine domina il quotidiano, la voce ci restituisce la possibilità di immaginare. Quindi nel momento in cui stiamo ascoltando il racconto di questo Castel del Monte, di questa ragazza che affronta le proprie paure in questo viaggio, riusciamo anche a completare il racconto che abbiamo fatto noi con l'immaginazione delle persone che ascoltano. La dedica a Michele Palumbo è stata quasi inevitabile, perché Michele era una persona che conosceva benissimo il nostro territorio, ne conosceva i difetti, ma soprattutto i pregi e sapeva farceli apprezzare. Io sono stato un suo alunno e Michele mi ha fatto amare anche Castel del Monte, oltre alla mia città, ed è anche suo al merito della mia scelta di restare qui ad Andria e di cercare comunque di contribuire alla crescita del nostro territorio. Non ci si salva da soli, si vive ma non si è salvo.